Così, riesci a fare quello che ti ha detto Matteo? No, non lo guardo, non lo guardo. Quanto saremo di altitudine? Due. Quattro mila. Eh? Quattro mila. Quattro mila metri. Non siamo molto in alto. Dovrebbero scapparsi da un po'. Eh sì. 3,6. Eh, scendiamo veloci. Com'è? Non lo so. Eh, non lo so. Perchè a lui solo su questi aerei succede questa cosa delle orecchie. Se siamo su quelli grossi, tipo il Boeing, il... Noi succede. Quelli intercontinentali non gli succede. Sì. Quelli grossi, questi qua sì. Sì. Sono in aterraneo. Sono in aterraneo. Sono in aterraneo. Ma che sto ricordo la GoPro che riprende il cielo? Sì, non ne guardiamo. Sì, non ne guardiamo. Le orecchie o non c'è il resto? Le orecchie o non c'è il resto? Ah. La testa anche. Sì. Qua. E non lo so se è l'ora. Questo ci succede. Non sento. Ma è succederanno. Ah. E questo dolore qua. Perché non ti so spiegare per dentro. C'è un successo in Milano. Ma ti faccio il ciclo. Ah. Qua. Qua. Ma è la pressione dentro. Come se prendessero uno spingolo e me lo cacciassero. La pressione. La pressione. Che preme dentro sul timpano. Il dolore. Quanto è da uno di entri? Ok dai. Non è fortissimo allora. Ok. Ok. Il tempo è riportato sui, il sabato, le porti sono asci zadone all'esplosione. Eh. Ha! Ah, riducendo? Eh, dovrebbe ridursi. Ma sono solo le orecchie. Le danno fastidio? No? Si. Faccio il piano? No? Solo le orecchie? Ok. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti